E' uno sceno casino, io ero a Napoli allora, nel momento il famoso programma di Badoglio era in volo e mi avevano mandato da solo, perché praticamente questa è una cosa che non posso dimenticare, a Napoli, a Capodichino, alla difesa su allarme di una città di una certa importanza in Italia allora, c'eravamo noi appunto, era il 22esimo gruppo caccia, tre squadriglios tra aeroplani diversi, anzi su quattro perché c'eravamo anche dei vuotini di Preda Bellica, c'erano i Macchi, c'erano i Re 2000-2001 e c'erano anche i Re 2005, anche lì un putpurri assurdo, il tutto però con un complesso che adesso sto un po' andando vagheggiando per le terre, il tutto però che difficilmente riuscivamo a mettere insieme più 5, 6, 7, 8 aeroplani efficienti alla volta e quelli con gli stormi da bombardamento arrivavano a centinaia, che voleva fare? Comunque mi aveva detto l'8 settembre, l'8 settembre mediterraneo perché c'era la flotta navale con protezione aerea che veniva su, adesso non so se dall'Africa Tunisia o dalla Sicilia e puntava su Salerno e sbarcati a Salerno, io sono andato da Napoli in giù incontro a loro, questa è una ragione, loro sono sbarcati a Salerno credo, nella notte o il mattino dopo, incontro a questa formazione per riferire ma cosa dovevo dire? Si diceva un po' vedere che succede lì e sì, io a distanza mi so che ho visto che il mare bolliva come una pentola di fagioli dal numero delle navi, gli aeroplani sovrastanti erano come i moscerini d'estate qui, io ero da solo col 200, che devo fare? dato un'occhiata così rapida per valutare la situazione, indietro di corse a casa e mi ricordo che questo appunto è indelebile per me, che è arrivata l'atterraggio a Capodichino, folle dei militari avieri eccetera, mi sono detto incontro orlando la guerra è finita, proclamano perché la guerra è finita, quindi proprio all'epoca la famosa dichiarazione mi pare registrata su disco, era in volo da solo, direi che da buoni militari, questo ci tengo molto specie per il fatto che dopo ho partecipato alla Repubblica del Nord come militare non è una forza politica, quindi ci tengo a seguire, noi come militari tra l'altro camicie nere e cose di quel genere, gli ho detto, li vedevamo un po' così, come dei militari seconda classe, e il problema di chi fosse il capo del governo, non è che ce lo ponessi molto se devo dire, non c'è stato né un cordoglio particolare quando Mussolini è stato liquidato, né un entusiasmo particolare, forse un po' abituato ai tafferugli della politica è stata molto più sentita anche da noi la situazione dell'8 settembre per il comportamento sovrano, quello sì, perché il fatto che in quel casino che si era instaurato, quello buono buono avesse preso e ne fosse andato, lui e tutta la famiglia non è che ci era piaciuto molto molto, venendo via da Napoli e ognuno andava via con potere e tutti tendevano ad andare verso la propria casa un bel momento, la mia casa era al nord di Napoli e quindi sono diretta verso nord e caso strano, qui a Roma, sarà stato il 15 di settembre, ho incontrato Adriano e quella per me è stata un po' senza altro uno dei fattori, non proprio l'unico fattore decisivo ma un fattore abbastanza determinante per la grande stima che avevo di lui come uomo, come ufficiale, come amico. Grazie. Grazie. Grazie.